benvenuti ad app per prof un app in cinque minuti appena ovvero una vetrina non un tutorial che introduce sinteticamente strumenti tic per i docenti 3.0 ben trovate tutti natural reader è una browser app premium che permette di trasformare ogni testo scritto in un file audio e grazie a uno sintetizzatore vocale trasformarlo in voce è un'applicazione particolarmente utile nella didattica delle lingue ma soprattutto è uno strumento versatile e strategico per la didattica inclusiva la versione a pagamento permette di salvare file audio per poterli usare e utilizzare in qualsiasi momento e anche di ottenere la pronuncia esatta di una parola nonostante questo l'app si dimostra strategica e semplicissima basta chiedere a un alunno di portare le proprie cuffie al proprio pc per poter rendere disponibile un testo una verifica direttamente in formato audio la voce a volte metallica non intraccia però la comprensione ed è possibile scegliere tra i diversi timbri la versione gratuita supporta i formati testuali pdf e docs rtf txt 20 minuti al giorno per le voci premium e un utilizzo illimitato per tutte le altre voci ma andiamo senz'altro esplorare l'applicativo la home page di natural readers punto com è molto semplice presenta alcuni pulsanti decisamente intuitivi abbiamo due menu sulla destra quello per poter effettuare il login che in realtà non è indispensabile ma ci permette di accedere ad alcune opzioni e la possibilità di creare un proprio profilo mentre il menu di sinistra ci permette di esplorare l'applicativo nelle sue varie possibilità ciò che possiamo fare già riassunto in questo quadro ovvero sia spostare all'interno di questo spazio un file di differente formato ovvero sia pdf txt e quelli che sono evidenziati qua sotto e ci viene riassunta quella che è il profilo di possibilità in base a quanto abbiamo pagato questa versione gratuita ne esistono anche di versioni commerciali premi andiamo subito a dimostrarne il potenziale prendendo dall'esterno del nostro computer un file pdf e trascinandolo all'interno di questo spazio una volta caricato questa barra di avanzamento clicchiamo sul pulsante blu con il visto che ci permette di aprirlo questo è il testo che ho importato è un file pdf realizzato da me ma che avrei potuto prendere direttamente dalla rete ed ecco che possiamo andare a modificare alcuni parametri con questo possiamo far partire la voce con questo pulsante possiamo selezionare tra tantissime voci gratuite e alcune premium per l'italiano abbiamo alice che è una versione gratuita e naturalmente la velocità di lettura quindi rallentare aumentare la velocità a seconda di quanto ci interessa o qual è il pubblico che deve ascoltare una volta che abbiamo impostato i vari parametri procediamo natural leader permette di differenziare e personalizzare la didattica in modo semplice e immediato vi invito a provarla e vi auguro buon lavoro se così è troppo veloce naturalmente possiamo rallentare natural leader permette di differenziare e personalizzare la didattica in modo semplice e immediato vi invito a provarla e vi auguro buon lavoro e naturalmente possiamo andare avanti con le nostre varie modifiche possiamo quindi portare qualsiasi tipo di testo l'audio decisamente ben chiaro e quindi decisamente utile esploriamo anche la possibilità di usare il web reader c'è la possibilità di leggere un testo direttamente nel nostro browser a questo punto dovremo trascinare questo pulsante all'interno della nostra barra degli indirizzi eccola qui quindi lo trasciniamo all'interno di questo spazio qui era già impostato e procediamo con la navigazione andiamo sulla pagina di un noto quotidiano selezioniamo un articolo e selezioniamo l'opzione natural reader il testo viene automaticamente importato all'interno del nostro applicativo ecco che procederemo con la lettura meteo quando arriva il frebo da domenica arriva l'ondata di maltempo pioggia in tutta italia e neve anche a bassa quota previsioni con questo è tutto naturalmente per questo semplicissimo obiettivo vi auguro buon lavoro e naturalmente vi invito a provarla alla prossima ciao 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 ciao